Ecco i candidati al premio come migliorattore protagonista. Il grande favorito è sicuramente Leonardo Di Caprio, tutti lo vorrebbero finalmente vincitore, non tanto per il film in carica quest'anno, in cui comunque offre un'interpretazione eccezionale, quanto per una carriera di livello elevatissimo mai riconosciuta dall'Academy. Quest'anno la concorrenza è meno agguerrita del solito, il che lo favorisce, anche se Michael Fassbender tratteggia uno Steve Jobs memorabile, complice una sceneggiatura fulminante da lui magistralmente interpretata. Andy Redmayne è sempre bravo, ma ha vinto l'anno scorso, sarebbe davvero uno smacco rivederlo sul palco con la statuetta anche quest'anno, ma il vero avversario da battere è Bryan Cranston in Trumbo. Grande assente è un altro attore di colore, Michael B. Jordan, che in Creed è bravissimo, dimostrando ancora una volta le sue doti, e ancora una volta ritrovandosi completamente ignorato. Sulle pagine di Gamesurf.it trovate la nostra copertura completa degli Oscar 2016, venite a trovarci e a dirci cosa ne pensate.